Mi piace come mi covera, sta qua, mettiti qua Face Rush contro Jarvan pure, contro Nocturne Contro Nocturne sarebbe stato good Aspetta il bocca No Greg, non l'ho giocato Io ho patto top side Io credo che in top sia molto meglio col Conqueror Nocturne Però dipende, sinceramente Contro Fiora forse è meglio col Conqueror, se non me Ho anche Lethal Tempo Ma più che altro sai quale è il problema Che top, secondo me tutte le persone Che giovano top, Nocturne lo battono Se gioca Conqueror contro Conqueror C'è tipo Renekton, Trundle, Olaf Non vince contro nessuno, capito Però con Thunderlord Cioè con Thunderlord contro chi vince Ha qualche chance di early game in più rispetto al Conqueror Ma Ha iniziato top Ha iniziato top Ma io me la riesco Vado al suo blu Stanno andando al suo blu io Quindi non sono top side Mentre non c'è il suo blu Il cazzo li ha iniziato top Eh allora Fiora è quello con Nocturne Sì ma per voi non capisco una cosa Flash Nocturne Ma scusami un attimo Come fa a fare più danni di me sostenuti Quando gioca Conqueror e lui c'ha Carapting e c'ha Transpd Ma perché ha il lifesteal anche della sua Q C'ha la sua Più che altro no C'ha più danni di sostenuti rispetto a me Ma che è crescita Sì perché ha l'attac speed bonus Cioè se viene di Q non puoi pensare di 3 da Perché solo si mette di Q Poi più che altro anche Qua c'è qualcuno Non posso venire Non posso venire Nocturne non c'è flash Devi regalare Nocturne Se c'è viene può che capì Non c'è flash Nocturne Nocturne Vieni 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 Sto arrivando sto arrivando Devo prendere il 3 Nocturne non c'è flash Sì non beccano Noh hanno beccato hanno beccato Sì No non ce l'hai tanto io Io ho messo la mano di Expa Contro lui ragazzi Non builderò Tiamat actually Builderò Trifos diretto Ha tippato Dica Grazie a te nel sub E benvenuto alle gagne di gane Io ganko Aspetta Tanti auguri a noi Più un anno mate minore 3 Non ce l'ho doppia No non ce l'hai anche il flash Go 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 Vai ci sono Prendila te vai Vi do una pusha Non ha il tp Se puoi lasci la maesias Vai puoi anche andare grazie Ecco hanno La vedi quella war che c'è lì in bot C'è il crab Sì Hanno visto Jarvan che era lì E dimmi come mai Jarvan è riuscito a ganker bot Voglio fare una doppia al loro robot Come è possibile questa cosa Perché la gente è solo è stupida È stupida Cioè è stato sfruttato Jarvan perché avevo visto sulla mappa che Jarvan era lì e ho detto Bona possiamo derivare Invece A quanto pare Andry TDD Non si poteva derivare Poi Jarvan solo kill la Janna solo kill la Jarvan Però è morto No Ciao è faker No Orian avrebbe potuto uscire la web qua C'è l'altra sarebbe salvata Ma è faker È faker Che cazzo fa No è andata di qua Ma perché è andata sopra Ma è stupido Oddio Che sta facendo Andry grazie mille del res up bro Li benvenuti con i cani cani Un anno 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 C'è Noctur lì C'è Noctur Ho Noctur nato all'altro No non ci credo Ah ha tolto la pianta Alla Però forse ti salva Mite No no E c'è la cuglia Oh Ha piaciuto Jarvan No C'è Jarvan neanche cosa del flashback Anka bot Ah neanche What is going on? Io sono stato flash in night Ma che game Come fai sto game Messe dion Cioè Io sono flash in night Lago Ma cazzo Mi hai in mente Noctur Nivelo 4 Io sono 5 What the fuck Però qua non posso Dove darlo Troppo easy S Chat Jarvan è topside Mate Sì sì Fine Io ho preso Tutta la jungle Buono Rip Flash in night Noctur Qua ha fatto una cosa molto interessante Ha fatto la W E fammi usare la W A me Se no c'è la Jarvan top C'è il murag Anka proprio Comunque builderò Triforce the dance Subito qua SS Nocturne non al 6 Quindi Chill Knock Flash up In 40 Ma in realtà Io stanno Ho giocato veramente bene Non ho fatto il Grandmaster A caso Ci ho giocato Vincendo quasi sempre Alleine C'era un Jax Che faceva miracoli To be honest Per quanto potesse Sbloccare in sto momento Oh my bad Oh Jarvan è il blu Cioè l'abbiamo spottato Ve l'ho pingato Se ci morite Dei cazzo di Di le Oddio Oddio Già non ho quell'HP Che rimane in lane Guarda Oddio Questi game Not un flash Bravo Quanta vita ha Jarvan? Poga poca È corto corto No che non c'è flash No flash nocturne è tua Sta lì dentro Bravo Mi sei piaciuto Bravissimo Gabri Si cripple Io ancora non ho preso un elder Ora che ci penso WTF Sai che era anch'io Che game finisco un primo Solo per chiedere che non ho più impatto Cioè prima l'inferno era solo quello forte Inferno non è mountain Adesso tutti sono forti Si l'inferno non è più così forte come il primo Che dà di meno 5% Alla fine non è che sia tutto sto game changing No A differenza di magari un cloud Oh se non è più forte il cloud Cioè 10-1550 sull'area Ma se ti prendi terremont È il game è over Cioè mate Non muori più Cioè il 24% di armor È bonus Così c'è una di carita arriva a 70 di armor E magic resistance Senza aver preso nulla Di oggetti Ma è armor bonus Se la di carita non c'è armor È ok Però nelle rune comunque c'è qualcosa No armor bonus Non bonus di quella che hai Cioè è della tua anche Sei sicuro È possibile Sì 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 al 100% Al 100% Ma sei sicuro? Sì È per questo è sbroccatissimo Cioè perché sennò sarebbe inutile Che è in killings per il jar Quello Yasuo sta intanto Let's get some gold top lane Mo' tippa nohtun E poi aspetta che ti passa Eh non mo' tippa più Ovviamente Vabbè così prendi alla torre Se non tippa Facciamo easy Ah mi rivoluzionatore eppure Oh è stato anche al cannone Forse ci può farlo pure per l'altra Non so se la prendi A Ma non so se muore Merda il primo Oh non c'ha flash quello Qua sta facendo ragazzi Oh l'era di giustina Holy shit Puoi davarlo? Sì Noctunna la ulti eh Scappiamo da due parti opposte Io vado sotto Cioè se ti ingaggia è morto Eh è solo di te? Sì sto andando via Sono scappato Ho flashato via Ho intanto scusa C'era Ma è bello Dai per il soli magari Aiuterei No mi salvo Ho visto dalle ombre ma è non sta ritardato Oh? Eh se mi prendi di Q più che altro muoio Quindi sto giocando super back Mate 250 IQ 250 IQ Cioè All planet Ma figa di puttana Ma figa di puttana Mate Tu ti fai caso che ti fidi sempre quando io so top Perché so che giochi male quindi abuso Ah ecco E Darius invece? Eh non l'ho giocava troppo male Mate Neanche te rendi conto la pressure che ti do Allucinante Se volete ha senso imparare Rumble più per la mid che per la top Mid prenderei molto più cazzo però Lico Rumble rispetto a top No no Rumble mid è forte Top è molto più forte mate Perché si giocano meno ranged Però Rumble mid è Dark Harvest E Rommi come un cane Quando hai la ulti vai bot E tiri l'ulti in bot A caso E te ne vai OTP in case io Mi stanno a tu No è morto già Non è basta 2-6 con Jarvan Movi boots Sembra quasi sia Tirando dritto Eccolo qua Monta Ma non era qua dentro Jarvan? No C'è loro Rosso a tra poco Oddio Ma una mano guys Quello Yasuo è brutto da vedere Proprio Bersegret è quando sta perdendo la lane Eppure mi sembra un'ottima Io potrei pushare dopo Però vi scopro di rosso se è possibile Appena prendi rosso Vado a pushare dopo Oh ma Jarvan è on fire Anche riesco a prendere Una plate Cioè non una plate Demolish Ma io ho 3k Da sotto Vado a prendere la torre Ho sbagliato Cazzo ho sbagliato build Perché Sarò che sia È uno Storm Razor mate Che cazzo mi serve slow war con te? Mate Trustami che critico Rek'Sai Non è per lo slow È per avere i danni ancora potenziati dalla static Oh guarda top Arrivo arrivo Tipo top dietro qua Baci da qua tu Eh Pensavo li lasciavo da solo no tu Oh eh Se no al pushabot io riesco a prendere la twitter top Mh mh Tampoco c'è l'era No No niente a scuola ho 4 ore di incontro con gli sbirri No polizia Ah no sì sì No no Sbirri È un'associazione mate È un acronimo È di cosa? Eh Società Benefica Indipendente Raramente Autistica Eh non ho finito con i Eh no Perché è ingleso Ah C'è Cassio qua nocturne Un'altra volta Via qua nocturne Nice C'è l'era al doctor C'è lo storm race Un secondo Ma Gianna che sta fa? C'è Gianna dalla finale Aveva andato proprio su Cassio Vabbè mate Guarda che quei 100 danni in più sono quelli che Vabbè 262 C'è sta giocando per ridere la ragazza Good mood È in good mood mate Good money Good money Good mood Good vision Autofill Regalo vado io botto ho capito Voi mi fai tiltare qua Ah ma Cassiopea è grandicella E la nostra Kai'Sa ha più che altro a 100 CS In 17 minuti Come fai a fermare così male? Non so mi ricordo il mio Mogai Wow è riuscito a morire uno vivo Oh Gelo on flash Guys please don't int Drake is up soon Cassiopei da sopra sto flencando Sono giusto sto passando per la mid ora Do sta a Talia? Ah volevo andare per Talia però Dov'ho tutta Flash Oh lì c'è l'ultima Torba che è veramente forte Con mobilità Non si capisce un cazzo Devo mettere l'alt top Se vuoi te lo metto No vabbè No io sto bot Che cazzo fa a casa? Guarda io non ho preso magic resistance Mentre nelle rune Sì sì anch'io Anch'io sto Che cazzo da me mate Sti cazzo degli altri Sì ti cazzo l'ero Per l'altro che T3 era scoperta C'era la mid HP C'era Stanno tutti topside Buono Continua a pushare I'm coming Pushatemi Pushatemi Dov'ho Io voglio one shootare qualcuno Una volta l'ho visto uno giocare Dai ghilo Che? Con Rek'Sai full critico C'aveva una Yumi in squadra Andavano sempre assieme Tirava dritto ragazzi E' su di te? No 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 Ora non sta in tanto Un pochettino What? Ma è sto po' da mocca Come ho fatto? Eh infatti non credo che sia tanto Un pochettino E' a target Io posso ultima pusha bot Però mi serve qualcuno In pusha top No Explode on Forse animator Un po' away Mate guarda i danni Vediamo Senza i danni delay Erano questi Che me l'ha parato I danni ce li ha il campione Mate però se siete top Vengono da me poi Cioè siete bot Cioè me li porti già prima Che vado a spettare Io so top Ce l'ha dato a fernascia Hai visto Zano No Quante cazzo di persone Ce l'aveva 14.000 persone Ah ieri l'ho visto Sì Winter League Oh Zerone è bello Cil Proprio la di Kitsi Ah bravo 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 Sì sì Concordo Ma pure è bravo a giocare Sinceramente Eh sì No è bravo a giocare Ancora una cosa giusta C'ha C'ho tre su di me Mi ricordo Tipo quando c'era Nole Ti lascio Fare questa play Sì sono V4 Sì sono V4 Sta pushando le side C'è stato Dory Tipo perché non l'abbiamo presa La Dory top Perché non è stata presa Stavo dicendo Tipo mi ricordo Quando c'era Blur In Foga No Che sta diventando famosissimo Tipo Zano Faceva qualche volta I video con lui Ma era quella C'era poco famosa Che non si inculava Quasi nessuno Ora invece Situazione ribaltata Io gli entro Dentro la base Ma se ci facessimo Un Nashor E basta In 5 Finiamo il game E fatelo che Ma i rischi Mi rischio a stare bot Qua Il sanguinamento di su Fiora Non è male Sinceramente Però Il problema è che Fiora Gli ha attacchi O un tipo di build Unitano come una bot Ad esempio O sennò Guarda la pinca mate Ho cliccato sopra Ma ho trollato E devi cambiare visuale Eh ho messo la visuale pure attaccata C'è in basso Ma non ce l'ho fatta Vuoi vedere che lo perdo? Eh è quello che penso anch'io Non smette 500 hp Non ho crittato No no Oh su staccaed Ero staccato nella ulti di Jarvan Invisibile pure Flash cazzo Devi finire il game qua No i minion ancora non arrivati Cazzo è da dietro Non c'è flash È dietro cazzo Ah wow Non c'era cazzo Come pensavo Non lo ucciso Al fondo Oh Eh no Eh no perché la gente C'è questi non si meriterebbe veramente di vincere Io ti giuro Se fossi un gatekeeper Adesso andrei a FK E farai perdere il game Non si meritano minimamente di vincere questi Minimamente Ma non solo perché hanno Eh infatti è pure italiano Questo qua Ma non solo perché hanno intato Ma perché non sanno manco come si gioca Comunque gli italiani sono poco scarsi Non c'è un cazzo da fare Meccanicamente è di magro Lo conosci? No non lo conosco però Eh me sei stato solo fa Sei 1-3-4-1-25 Figa Stai intando con Kaisa Te pensi che ti servi più testo game O cazzo via sono te? Legit no? Eh no flame Ok ok io non ci sono però Chill out Chill out Aspettate il meccanico top Aspettate il meccanico top Magari è un cucciolone Sì ma per carità ma scherzo A me non ho intato giocando 1-3 Eh dai è vero anche questo è vero Io non tipo Spero abbia deprogrammato tutto Oh sì è intato Oh no I'm dead Sto arrivando da dietro sto arrivando io Ah vorrei hanno già ultato Ti 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 per ridere perchè mate what the fuck è per ridere si vabbè però muo la report non va davvero magari ti pare che qualcuno reporta le persone